Eccoci in studio, bentrovati a questa prima puntata di Pro e Contro, il nuovo format di Telebari che sarà un po' la prosecuzione dei consigli comunali, ogni settimana sceglieremo un tema cosiddetto caldo affrontato in Aula D'Alfino e lo affronteremo con i consiglieri comunali qui in studio, pro e contro il tema scelto. Quest'oggi parliamo di Scuola Mazzini, questa querelle tra istituto comprensivo e parrocchia di Santa Croce che tiene banco sulle prime pagine dei giornali da quasi due mesi. Ne parleremo con alla mia destra il consigliere comunale di Fli, Vito Lacoppola, buonasera, e con il vicepresidente PDL Consiglio Comunale, Massimo Posca. Buonasera a tutti. Vi presento un po' meglio anche se più o meno già vi conoscono. Allora, Vito Lacoppola, 37 anni ancora per un paio di mesi, ci ha tenuto a specificarlo, sposato, due figli, professione avvocato. Perfetto. Tu sei alla prima consigliatura. Alla prima consigliatura, sì, esattamente. Invece Massimo Posca, anche se sembra un trentenne, è un trentenne ma di 50 anni, è sposato, non ha figli, un imprenditore, questo lo aggiungo io, ha smesso da poco di fumare. Giuro. Allora, entriamo subito nel vivo della discussione. Ieri in consiglio comunale, l'ok alla mozione di cui il primo firmatario è stato proprio Vito Lacoppola. Vito, vuoi spiegarci un po' questa mozione di cosa trattava? Sicuramente. Allora, la mozione trattava due profili fondamentalmente. Uno, alcune anomalie presenti nella delibera di marzo di quest'anno, la numero 120, e l'altro riguardava il mancato rispetto di alcune norme elementari sulla sicurezza che si sarebbero venute a creare nel momento in cui l'ingresso di via Fornari 8 fosse stato utilizzato sia per ad uso scolastico che per le attività socio-pastorali della parrocchia. Partiamo dai profili, diciamo... Io direi, partiamo un attimo dal principio, così magari chi non conosce, anche se è difficile, comunque se dovesse ancora esserci qualcuno che non conosce la situazione, di cosa stiamo parlando esattamente? Di questi locali contesti? Esattamente. Allora, all'interno del comprensorio scolastico che oggi ha il nome di istituto comprensivo Mazzini Modugno, creatosi da un anno a seguito del piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche della città di Bari, all'interno di questo comprensorio scolastico vi sono alcuni locali condotti in locazione, concessi in uso da oltre un ventennio alla parrocchia Santa Croce per lo svolgimento di attività socio-pastorali, di accoglienza, di ascolto, di indigenti e di disagiati del centro murattiano e non solo. Ebbene, a tre anni dalla scadenza di questa concessione, che scadeva a fine del 2015, l'amministrazione comunale ha pensato di estinguere il vecchio rapporto e concedere in uso con lo strumento tecnico-giuridico dell'annovazione, quindi creare un nuovo rapporto per ulteriori 19 anni. Vito, perdonami se si interrompo, ricominciamo subito, però prima abbiamo già una telefonata in linea. Pronto? Pronto, mi dica. Salve. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo farvi una domanda, alcune domande per quanto riguarda la scuola Mazzini. Prego. Chi poi darà aiuto ai poveri, alle persone che hanno bisogno? Chi farà il dispensario quando questo sarà chiuso e sarà dato alla scuola? Bene, grazie per il suo intervento. Mi pare di capire che la signora è pro parrocchia di Santa Croce. Il consigliere posta. Sì, tocca a me. Prego. No, partiamo dal presupposto. Il collega Lacoppola ha ben illustrato, perché è stato lui il promotore di questa mozione. Partiamo da un presupposto fondamentale. Quando in una città come Bari, una società cittadina, in particolar modo una città come Bari, che non parliamo di una metropoli, al limite potremmo parlare di un'area metropolitana, ma non di una metropoli, due istituzioni educative non riescono a dialogare fra di loro. Questo, secondo me, è un allarme notevole che tutti quanti dobbiamo prestare attenzione. Cioè, è un allarme che vuol dire qualcosa che nella società cittadina non funziona. Dover coinvolgere il Consiglio Comunale su una disputa di questo tipo, che può essere giusta, sbagliata, non voglio entrare in merito, però è il passaggio che, secondo me, è totalmente inopportuno. Questa era una cosa che il dialogo che ci doveva essere fra la scuola e la parrocchia era fondamentale. Questo spirito radical chic che ha avuto la scuola nei confronti della parrocchia è inammissibile. Cioè, la parrocchia la svolgeva, dovrebbe svolgere attività di assistenza, di ascolto, come ha detto, ma assolutamente ai disagiati, alle persone che hanno bisogno di essere supportate moralmente, e questo era lo spirito doveva consegnare anche dei pacchi pasta per le famiglie che è bisognoso. Queste erano le attività che dovrebbe svolgere la parrocchia. Se questo non potrebbe anche rientrare in una formazione educativa per i bambini che frequentano la scuola, ditemi voi quali sono gli esempi o l'educazione che bisognerà dare a questi bambini. Non ritengo che quella struttura che potrà essere adibita successivamente a archivio, successivamente, perché la richiesta della scuola è stata, quello spazio mi serve come archivio o forse come laboratorio. Questa è la richiesta della scuola. E a fronte di questa richiesta ritengo primario e fondamentale, oltre dove è logisticamente posizionata la parrocchia di Santa Croce, nell'area della zona di Piazza Umberto, stazione ferroviaria, dove ormai la città vivono dei disagiati o delle situazioni bisognose di aiuto. Se togliamo questo riferimento di supporto, il supporto a queste persone disagiate, chi glielo deve dare, come ha ben detto la signora della telefonata precedente. Questo è l'elemento fondamentale. Poi che la delibera sia fatta male, questo è un fatto amministrativo che gli uffici si prenderanno le loro responsabilità.